dai dai che riva della mozza milan giuve 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 ma questi mi è sicuri che non fai voglio dire non saranno le uniche ed è nessuno stacca tania c'è giro c'è giro la bomba la bomba è originale signora lei sicura no cioè ieri apporto i vestiti dove l'avevano la bomba è la bomba è sicuramente non ha la modellata giuve rupo giuve il giuve la bomba è indosato il giuve 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 Grazie.